Siamo con Daniele Zanzi, vice sindaco e siamo in un posto bellissimo nel parco di Viera Baragiola, fuori dalla Dacia intitolata a Giuseppe Zamberletti e Salvatore Furia. Daniele è la persona che più di tutti conosce questo posto a Varese e non solo a Varese. Per me è una giornata particolare perché questa giornata dà un senso al mio essere amministratore. Sono due anni che ci stiamo lavorando per dare in gestione gratuita alla Schiapparelli in onore e in memoria del professor Furia questa struttura. Ci siamo riusciti, sono contentissimo perché quando si riesce a realizzare qualcosa di bello e di positivo che è nell'interesse di tutta la cittadinanza, perché la Schiapparelli e la protezione civile sono due associazioni, due enti che sicuramente lavorano nell'interesse di tutti i cittadini. Ciò vuol dire che si è fatta una bella cosa e quindi sono veramente contento e commosso. Grazie a tutti.